Arcangelo Badolati ripercorre alcuni tra i più cruenti episodi di indrangheta degli ultimi anni, senza filtri, senza tralasciarne i particolari più sanguinosi. L'assassinio a Cosenza del piccolo Pasqualino Perri, l'omicidio di Cocò a Cassanoionio, l'uccisione di Luca Bruni per mano dei suoi due migliori amici. Un pugno nello stomaco arriva dritto al cuore degli studenti che assistono all'iniziativa organizzata da Libera Calabria nel teatro dell'Istituto Scolastico dello Spirito Santo nel centro storico di Cosenza. Oltre al giornalista sono intervenuti Franca Ferrami, sorella di Lucio, imprenditore morto per mano dell'andrangheta a Cetravo nel 1981 e Vincenzo Kindamo, che cerca con determinazione verità e giustizia per la sorella Maria, scomparsa laureana di Borrello nel maggio del 2016. Come si fa a spiegare l'andrangheta ai ragazzi calabresi? Facendogliela toccare con mano, con delle vicende che potrebbero essere state le loro vicende. raccontando di fatti in quanto tali, senza edulcorarli, senza cercare di nascondere una parte della verità, cioè la brutalità che la criminalità organizzata esercita sulle persone del nostro territorio. Ancora sono a chiedere verità e giustizia per Maria, le indagini sono ancora in corso e mi auguro che presto possa esserci un appiglio per ricostruire la nostra vita, la vita di una famiglia dilaniata dalla cultura mafiosa. Salvatore Bruno per la C News 24.